Self Publishing Master Consigli e strategie per il self publishing Ciao, benvenuto da Carmen Laterza a Self Publishing Master Consigli e strategie per il self publishing Oggi voglio parlare di print on demand e di print on sale Il print on demand che spesso viene indicato con l'acronimo POD e il print on sale che viene indicato con l'acronimo POS sono entrambi servizi per stampare il tuo libro in formato cartaceo Vediamo dunque la differenza tra questi due tipi di servizi di stampa Il print on sale significa letteralmente stampa su vendita è il sistema attraverso il quale il tuo libro viene stampato per chiunque lo voglia comprare in formato cartaceo Fino a poco tempo fa un autore indipendente che volesse distribuire il proprio libro in formato cartaceo in realtà era quasi impossibilitato a farlo perché per rendere disponibile il proprio libro nelle librerie di tutta Italia per i lettori di tutta Italia o addirittura di tutto il mondo avrebbe dovuto stampare autonomamente le copie del suo libro in qualche modo distribuirle e farle arrivare alle librerie e questo significava quindi avere una rete di distribuzione ma soprattutto anticipare i costi di stampa e poi sostenere anche i costi di distribuzione i costi di magazzino o i costi di reso questo ovviamente diventava impossibile per un singolo autore però questo è esattamente ciò che fanno le case editrici le case editrici sostengono tutti i costi di questi passaggi ed è anche questo il motivo per cui poi trattengono per sé la maggior parte dei guadagni quindi sul prezzo di vendita del libro trattengono per sé la percentuale maggiore e danno all'autore una commissione piuttosto bassa perché in realtà loro hanno tutta una serie di costi da sostenere devono pagare la fase iniziale di editing del libro l'impaginazione, la grafica quindi persone professioniste di questo settore poi però ci sono anche i costi di distribuzione per inviare le copie a tutte le librerie eventualmente i costi di reso perché le copie non vendute devono tornare alla casa editrice i costi di magazzino e così via è ovvio che c'è una spesa ed è questo anche il motivo per cui le case editrici fanno una selezione è giusto che la facciano sono selettive per capire su quali autori vale la pena fare un investimento in realtà le case editrici poi possono ammortizzare parzialmente questi costi perché giocano su un volume di stampa su tirature di stampa molto alte è chiaro che stampare 200 copie di un libro a dei costi fissi che vengono maggiormente ammortizzati se dello stesso libro ne stampo 2000 o 5000 copie ma in ogni caso si tratta come ho detto di un investimento che fino ad ora il singolo autore non poteva fare se non appunto appoggiandosi essendo scelto da una casa editrice oggi invece con il print on sale tu che sei un autore indipendente puoi fare tutto questo quindi sei veramente un editore di te stesso perché investi su di te senza però dover anticipare costi altissimi di stampa o senza dover affrontare e sopportare i costi di distribuzione di magazzino perché non devi stampare copie in anticipo non devi prevedere dei magazzini non devi prevedere una rete di distribuzione allora la stampa e la distribuzione del tuo libro diventano processi sostenibili perché il servizio di print on sale in pratica funziona in questo modo ogni volta che un cliente trova il tuo libro su una libreria online e lo ordina lo vuole in formato cartaceo stiamo parlando del formato cartaceo non del formato ebook ordina una copia del tuo libro il servizio di print on sale stampa quella singola copia e la spedisce direttamente al cliente quindi il cliente se la vede arrivare nella cassetta della posta o dal postino oppure qualche volta tramite un servizio di corriere però viene stampata una singola copia quando il cliente la compra e la richiede questo come puoi capire è molto comodo perché tu devi fornire al servizio di print on sale solo il file dell'interno del tuo libro ovviamente correttamente impaginato per la stampa con le misure giuste per la stampa il file della copertina quindi il file in alta risoluzione in alta qualità della tua copertina sia fronte che retro perché serve per la stampa e i dati del tuo libro nient'altro quindi se vuoi attivare questo servizio il servizio di print on sale ti servirà preparare devi avere pronti un file del tuo testo quindi il contenuto del tuo libro in un formato pdf o in un formato doc però che sia correttamente impaginato che quindi abbia la dimensione giusta a seconda del formato di stampa che tu scegli con i margini corretti con i numeri di pagina se vuoi insomma che sia un file pronto per la stampa come lo prepareresti per andare in tipografia e l'immagine di copertina ovviamente una copertina completa che comprenda il fronte il dorso e il retro quindi non soltanto l'immagine frontale come fai per un ebook qui parliamo di un formato cartaceo quindi ci vuole una copertina completa e sia una copertina in alta risoluzione quindi di solito ti viene richiesto un file pdf ad alta risoluzione che è il file pdf che viene ottenuto proprio a partire da un file grafico per esempio un file di photoshop quindi quando il grafico a cui tu ti rivolgi ti consegna il file completo della tua copertina ed è un file in formato grafico poi da quello puoi estrarre o fai fare direttamente a lui questa operazione per avere il tuo pdf ad alta risoluzione poi ti servirà il testo di quarta di copertina che è la descrizione del tuo libro con eventualmente la nota biografica la tua breve nota biografica questi dati servono perché il servizio di print on sale in genere poi mette il tuo libro in un catalogo e quindi perché questo sia ricercabile dai clienti, dai visitatori il tuo libro deve essere classificato e quindi devi avere un testo di quarta che lo presenti o una breve nota biografica che spieghi ai lettori chi sei eventualmente se ce l'hai anche il tuo codice ISBN e devi anche stabilire a quale categoria vuoi iscrivere in quale categoria vuoi far collocare il tuo libro detto questo non ti serve altro tu non devi stampare in anticipo delle copie non devi riempirti la cantina di scatoloni di copie del tuo libro che poi non sai se e quando venderai ad oggi l'unico servizio in Italia di print on sale è il servizio fornito da Amazon Create Space Create Space è una sezione di Amazon che fa proprio questo mette in vendita il tuo libro in formato cartaceo su Amazon per cui l'utente che naviga su Amazon e sfoglia la categoria dei libri può trovare libri sia in formato digitale quindi scaricabili con un click in formato ebook oppure può decidere di acquistare un libro in formato cartaceo in quel caso Amazon stampa la singola copia che il cliente ha comprato e gliela spedisce questo è molto comodo per te ovviamente devi fare prima tutta la procedura di iscrizione ad Amazon ovviamente e di caricamento dei tuoi file su Create Space l'unico problema se vogliamo dirlo è che per il momento l'interfaccia di Create Space la sezione di Amazon dedicata alla stampa dei libri in formato cartaceo è un'interfaccia in inglese però insomma ci sono anche su Librosa delle guide dei tutorial che ti spiegano come muoverti all'interno delle pagine di Create Space che ti guidano passo passo in tutta la fase di caricamento del tuo libro in formato per la stampa in formato cartaceo quindi per il print on sale in realtà anche le altre piattaforme di intermediazione del self-publishing offrono il servizio di print on sale abbiamo già detto in altri episodi cosa significa piattaforma di intermediazione sono quei servizi che ti permettono di essere presente con il tuo libro nelle altre librerie online oltre Amazon e che per fare questo ti chiedono ovviamente una commissione quindi tu riesci ad essere presente con il tuo libro in tutte le librerie online però per farlo devi affidarti ad un intermediario bene questi intermediari come possono essere Streetlib You Can Print o altri offrono anche il servizio di print on sale però attenzione in realtà quando ti offrono questo servizio non stanno facendo altro se non offrirti esattamente il servizio di Amazon Create Space rigirandotelo in qualche modo ma cosa significa questo? significa ovviamente che loro tratterranno una piccola parte delle percentuali per il lavoro di intermediazione che fanno per te quindi se tu decidi di attivare il canale del print on sale tramite una piattaforma di intermediazione ovviamente su ogni copia venduta del tuo libro guadagnerai di meno perché una percentuale una piccola parte sarà quella che si tratterrà Amazon Create Space di default e poi una piccola percentuale sarà anche quella che si trattiene la piattaforma di intermediazione per il suo lavoro perché magari ti cura l'impaginazione ti cura il caricamento di questi file ora se tu non sei capace pensi di non essere capace di impaginare un libro per la stampa ovviamente impaginare un libro per la stampa richiede una cura particolare potresti anche decidere di affidarti ad un intermediario io però ti consiglio se appunto vuoi che il tuo libro sia disponibile per i lettori anche in formato cartaceo piuttosto scegli un grafico scegli un consulente editoriale che ti fa il lavoro di impaginazione che ti prepara i file poi tu li carichi direttamente su Amazon Create Space direttamente tu questo significa che pagherai una volta sola il lavoro del grafico del tipografo dell'impaginatore mettiamola così però dopo su tutte le copie che tu venderai prenderai la maggior parte delle tue commissioni senza lasciare ogni volta che vendi una copia una commissione alla piattaforma che ti fa da intermediario io consiglio sempre di pubblicare direttamente dove è possibile farlo e siccome su Create Space è possibile farlo perché non farlo quindi il mio consiglio è questo pubblica direttamente il tuo libro in formato cartaceo su Amazon nella sezione Create Space così avrai il controllo assoluto dei file che tu vai a caricare anche dell'impostazione grafica dell'impaginazione che tu vuoi dare al tuo libro e soprattutto poi avrai guadagni più alti da ogni singola copia venduta passiamo adesso invece al print on demand che era l'altra faccia della medaglia dell'argomento di oggi print on demand quello che viene identificato con la cronigmo pod è letteralmente la stampa su richiesta cioè un sistema attraverso il quale tu stampi le copie del tuo libro di cui hai bisogno e le ricevi direttamente a casa abbiamo già parlato in un altro episodio del motivo per cui è importante stampare delle copie cartacee del tuo libro qui possiamo velocemente ricapitolare i motivi principali innanzitutto perché dovresti stampare avere fisicamente in mano una copia cartacea del tuo libro sicuramente per conservarlo come abbiamo detto tante volte avere in mano il proprio libro ancora sul supporto cartaceo quindi il libro come oggetto fisico ha molto più valore rispetto a un file digitale poi per donarlo a parenti amici più stretti io consiglio sempre di invitare gli amici e i parenti a comprarlo il libro perché proprio perché sono i tuoi amici i tuoi parenti dovrebbero essere i tuoi primi fan i tuoi primi supporter però capisco anche che spesso c'è il piacere di regalare il proprio libro e ovviamente la maggior parte delle persone amano leggere i libri ancora su carta anche quando leggono libri in formato digitale e hanno il lettore ebook la maggior parte delle persone ama ancora avere il libro fisico in mano e comunque sappiamo che regalare un libro fisico fa tutto un altro effetto piuttosto che regalare un file poi ancora motivi un po' più importanti per cui ti serve avere delle copie cartacee del tuo libro possono essere quello di effettuare il deposito legale abbiamo visto in un episodio dedicato alla tutela del tuo diritto d'autore quindi come sia uno dei sistemi possibili quello di inviare copia del tuo libro alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze ovviamente per farlo ti serve avere almeno due copie cartacee del tuo libro oppure potresti avere bisogno di copie del tuo libro per partecipare ai concorsi letterari che chiedono quasi tutti copie cartacee anche quando poi accettano formati digitali spesso le associazioni o gli enti che promuovono i concorsi hanno comunque piacere di avere una copia cartacea del libro in concorso per poter creare magari una loro biblioteca oppure per inviarlo a blogger, a giornalisti, a lettori per ricevere recensioni questo è un motivo molto importante tieni conto che la maggior parte dei blogger che sono disponibili a recensire i libri anche degli autori self, degli autori autopubblicati proprio perché dicevano moltissime richieste in tal senso per dare una sorta di priorità alle richieste che dicevano dando la preferenza proprio ai libri in formato cartaceo perché questo? perché capiscono che l'autore che ha creato un formato cartaceo e che invia loro una copia ovviamente in modo gratuito sta spendendo non soltanto il suo tempo ma anche fa un piccolo investimento perché comunque c'è il costo della copia il costo dell'invio postale allora danno la preferenza, la priorità nel loro ordine di letture ai libri che dicevano in formato cartaceo a questo punto capisci che è più conveniente per te chiedere ai blogger di recensire il tuo libro avendo pronte delle copie da spedire loro piuttosto che inviare soltanto il file dell'ebook oppure ancora molto importante avere delle copie a disposizione per venderle durante le presentazioni sicuramente farai una presentazione almeno nella tua città forse anche più d'una o in più città è ovvio che in una presentazione letteraria deve esserci un banchetto un tavolo in cui sono esposti i tuoi libri magari anche non soltanto quello di cui parli in quell'occasione ma altri se ne hai iscritti perché le persone che vengono ad ascoltarti si aspettano di trovare il libro lì e spesso se non l'hanno già comprato in altri modi, in altri canali lo comprano lì perché hanno anche piacere di fartelo autografare e poi un altro motivo per cui tu potresti avere il piacere di avere copie cartacee del tuo libro potrebbe essere quello di portarle in una libreria di tua fiducia in conto vendita ora le librerie soprattutto dei paesi o se hai una libreria di fiducia del quartiere della tua città hanno piacere di avere qualche copia del libro che viene per esempio presentato in quel mese, in quel periodo perché sanno che le persone che partecipano alla presentazione o quelle che non hanno potuto partecipare alla presentazione ma che hanno sentito parlare di quel libro perché è stato scritto proprio da una persona dello stesso paese della stessa città, dello stesso quartiere hanno poi la curiosità di andarlo a chiedere nella libreria, di comprarlo quindi per loro è molto più facile averlo già pronto per poterlo vendere ovviamente si tratta di un rapporto fiduciario che tu puoi stringere con una libreria nella quale magari vai di frequente ti chiederanno non tantissime copie però in conto vendita che significa che se le vendono loro si trattengono una percentuale se non le vendono dopo qualche mese tutte le riprendi e sei a posto però capisci che tutti questi motivi ti portano ad avere la necessità di avere delle copie cartacee del tuo libro come ottenerle? ovviamente facendole stampare ed è questo appunto il motivo per cui ti parlo del print on demand devi pensare dopo aver pubblicato il tuo libro anche di avere delle copie cartacee a casa pronte da utilizzare in tutti questi casi quante copie possono servirti? ora io posso darti una stima però dipende molto da quello che tu pensi di fare come promozione del tuo libro quindi quali sono le strategie di promozione editoriale che pensi di mettere in atto perché il numero di copie che possono servirti dipende dal numero di presentazioni letterarie che intendi fare o dal numero di blogger ai quali intendi inviare il libro per chiedere una recensione o il numero di concorsi ai quali pensi di partecipare insomma chiaramente il numero è molto personale io però penso che un minimo di 200 copie non sia poi lontano dalle esigenze medie di un autore autopubblicato perché appunto se partecipi a qualche concorso fai una presentazione nella tua città e invii le copie a dei blogger per avere delle recensioni e qualche copia le regali ad amici e parenti 200 non è un numero così alto poi però puoi stamparne anche meno e fare più ordini quindi cominciare magari con un ordinativo più piccolo stamparne poche e eventualmente poi ristamparne fartene inviare altre puoi andare per gradi questo se soprattutto è il tuo primo libro e non hai ancora di mistichezza con i servizi di print on demand o con tutta la serie di attività promozionali che puoi mettere in atto ti consiglio di andare per piccoli passi perché appunto il tuo obiettivo non è riempirti la cantina di scatoloni ma stampare il numero di copie che ti possono servire e non avere quindi magazzini pieni quindi non avere spese di stampa troppo alte poi da sostenere come funziona il servizio di print on demand a differenza del print on sale in cui abbiamo detto che viene stampata una singola copia ogni volta che un lettore la compra la acquista online invece nel servizio di print on demand tu stampi un minimo di copie che viene definito dal servizio tipografico al quale ti rivolgi e queste copie vengono spedite a casa tua quindi in pratica devi scegliere una tipografia che può essere una tipografia fisica o online poi scegli tutte le caratteristiche del libro quindi la carta, la qualità della carta sia per l'interno che per la copertina del tuo libro scegli il numero di copie che vuoi stampare in questo caso ti servirà avere pronti il file dell'interno del tuo libro come abbiamo visto prima un file che sia correttamente impaginato per la stampa in genere si tratta di un file pdf correttamente impaginato e il file della copertina anche qui come abbiamo detto prima un file in pdf ad alta risoluzione che comprenda la copertina completa quindi con il fronte, il dorso e il retro in questo caso non ti serve nient'altro invierai questi file alla tipografia e dopo pochi giorni loro ti spediranno tramite corriere le copie che tu hai ordinato potresti anche trovare una tipografia del tuo paese della tua città alla quale vuoi rivolgerti chiedere un preventivo in quel caso le copie te le vai a ritirare personalmente tu è comunque un servizio molto pratico e anche molto conveniente tra le tipografie che ci sono online io posso darti così come consiglio generico i nomi di due servizi di tipografia online che io utilizzo normalmente e sono iloveprint.it oppure pressapp.it però ti dico subito che sono due servizi con i quali io non ho nessun rapporto commerciale cioè io non guadagno niente se tu li usi o non li usi però mi sento di consigliarle perché sono due tipografie che ho utilizzato e che continuo ad utilizzare con frequenza perché hanno a mio avviso una buona qualità di stampa e hanno dei prezzi veramente molto interessanti e concorrenziali però comunque al di là di questi due nomi ce ne sono tantissime online quindi fai le tue ricerche confronta i preventivi online e scegli il servizio che tu ritieni migliore per te l'unica attenzione che ti suggerisco di avere quando confronti i preventivi è di tenere conto che siano veramente alla pari attenzione ai costi di spedizione perché? perché tutte le tipografie online ti permettono di fare dei preventivi gratuitamente senza inserire i file veri e propri ma semplicemente indicando di quante pagine è costituito il tuo libro quante copie ne vuoi avrai subito un preventivo in veramente pochi secondi però attenzione che alcuni servizi online ti dicono subito anche qual è il costo di spedizione che ovviamente capisci che può cambiare perché spedire 50 coppie non è come spedirne 400 altri servizi invece questi costi di spedizione non te li fanno vedere subito però ovviamente poi in fase di ordine te li addebitano quindi per fare un preventivo vero un confronto tra preventivi vero stai attento di considerare anche i costi di spedizione il costo della singola coppia ovviamente dipende da alcuni fattori quindi di sicuro il costo di ogni singola coppia dipende dalla lunghezza del testo perché stampare un libro di 100 pagine non è come stamparne uno di 200 ovviamente un libro di 200 pagine costa di più di un libro di 100 però non costa il doppio tieni conto anche di questo più un testo è lungo più si riesce ad ammortizzare i costi di base che comunque ci sono perché i costi per attivare la macchina impostare la macchina di stampa ci sono dei costi fissi che su un libro di un numero maggiore di pagine vengono in qualche modo ammortizzati quindi stampare un libro di 200 pagine è vero che costa di più che stamparne uno di 100 ma non costa il doppio costa qualcosa in più rispetto a un libro di 100 pagine però il costo finale della tua copia dipende prima di tutto dalla lunghezza del testo dalla qualità della carta che scegli sia per l'interno sia per la copertina anche dalla presenza o meno di immagini all'interno del testo e soprattutto se queste immagini sono in bianco e nero se sono dei semplici schemi sono in bianco e nero non fa molta differenza rispetto ad avere un testo solo di prosa oppure se sono immagini a colori è chiaro che se devi stampare l'interno a colori magari anche su carta patinata perché le immagini devono essere fotografiche allora il costo aumenta e poi l'ultima variante è quella del numero di copie anche qui per una tipografia stampare 50 copie di un libro ha un costo stampare 200 copie dello stesso libro ha un costo ovviamente maggiore ma in proporzione per ogni singola copia il costo è minore perché l'impostazione comunque della macchina viene fatta una volta sola allora è chiaro che sarebbe più conveniente ordinare subito un numero alto di copie perché in proporzione più copie ordini in un unico ordine meno ti costa la singola copia del tuo libro però è anche vero che uno all'inizio vuole testare il servizio quindi vai pure per gradi comincia con un ordinativo piccolo così testi il servizio testi quella tipografia e vedi se la qualità di stampa ti soddisfa poi eventualmente se non ti soddisfa cambi tipografia o fai delle modifiche cambi tipo di carta cambi tipo di copertina se invece ti soddisfa allora la volta successiva non farai altro che ordinare direttamente un numero di copie più alto perché sai che ti costerà meno ora anche qui i servizi di intermediazione per il self publishing ti offrono anche il print on demand però io non ho mai provato quindi non posso lasciare il mio commento dire la mia opinione sui servizi di print on demand offerti dalle piattaforme di intermediazione per il self publishing io ho sempre fatto tutto in modo diretto sono io che scelgo la mia tipografia carico i file scelgo tutte le finiture la carta la copertina e le copie mi arrivano direttamente a casa attenzione che anche amazon create space offre il servizio di copie per l'autore c'è una funzione che si chiama proprio order copies cioè ordina le tue copie però a mio avviso non conviene proprio a livello economico perché è vero che amazon offre il servizio impagabile del print on sale per cui stampa una singola copia e la spedisce al cliente ma se tu sei l'autore e hai bisogno appunto di centinaia di copie del tuo libro questo servizio non è conveniente la funzione order copies in particolare è una funzione che ti permette di stampare il tuo libro quando lo carichi su create space però in quel momento la stampa viene fatta nella sede di amazon negli stati uniti quindi la spedizione viene fatta dagli stati uniti e quindi già il costo di spedizione incide parecchio quindi proprio non te lo consiglio una cosa alternativa una cosa che molti autori fanno è quella di comprare le proprie copie direttamente da amazon cioè come farebbe un qualsiasi cliente l'autore entra su amazon.it fa finta di essere un cliente e si compra da solo le copie da amazon in quel caso amazon.it stampa le copie non in Stati Uniti ma le stampa in Europa e te le manda con il postino o con il corriere perché gli autori fanno questo perché poi in questo modo sanno che su ogni copia che comprano amazon darà poi a loro in qualità di autori le royalties le commissioni questo è vero però innanzitutto se tu compri le copie da amazon devi anticipare il prezzo intero perché tu compri come fossi un normale lettore solo che anziché comprare una copia magari ne ordini 50 ne ordini 100 bene vuol dire che tu oggi devi sborsare subito la cifra di 100 libri a prezzo intero immaginiamo che il tuo libro per fare un conto tondo costa 10 euro ovviamente stiamo parlando di un libro in formato cartaceo non dell'ebook quindi 10 euro è proprio un prezzo minimo spesso i libri costano di più soprattutto se poi hanno immagini o se sono dei manuali possono costare anche 20 o 30 euro ma immaginiamo di essere di fronte ad un libro di narrativa un romanzo e quindi un prezzo base di 10 euro se tu oggi devi comprare 100 libri 100 copie di quel libro vuol dire che tu oggi devi sborsare 1000 euro poi è vero che Amazon ti darà le commissioni su le copie vendute ma te le dà dopo 60 giorni anzi dopo finiti i 60 giorni e il mese successivo quindi devi aspettare più di due mesi per avere rimborsata una parte della tua cifra quanto in realtà su ogni copia venduta del tuo formato cartaceo da Amazon tu potrai ottenere circa il 60% perché ci sono i costi di stampa però devi dedurre anche i costi di spedizione insomma volendo fare sempre un calcolo così a spanne possiamo immaginare che su i 1000 euro che tu hai speso inizialmente ne puoi recuperare 550 però questo significa che per avere 100 copie tu hai speso 450 che significa 4 euro e 50 a copia che è tanto è tanto perché i servizi di print on demand che trovi online quindi le tipografie online o anche la tipografia sotto casa ti fanno prezzi molto più bassi per farti un esempio un libro parlo di narrativa quindi parlo di un testo stampato senza i colori interni quindi un testo solo di di prosa di 300 pagine che non sono poche lo posso pagare sui 3 euro e 50 se ordino 50 copie faccio un ordine minimo di 50 copie se invece ordino 200 copie il prezzo scende perché come ho già detto una tipografia ti fa un prezzo minore per ogni singola copia più alto è il numero di copie che tu ordini quindi se io compro 200 copie ordino 200 copie alla tipografia quello stesso libro lo pago 2 euro e 50 2 euro e 30 a copia allora capisci che quello che può costare comprare le copie direttamente da amazon è assolutamente fuori mercato rispetto a quello che invece tu potresti spendere con un servizio di print on demand ed è per quello che io ti invito a scegliere questo tipo di canale per avere le copie cartacee di cui comunque hai bisogno cerca il servizio che ti offra la qualità di stampa sicuramente buona migliore ma al prezzo più conveniente perché il tuo scopo è appunto spendere il meno possibile di queste copie che per la maggior parte saranno date gratuitamente regalate e quindi per te sono una spesa viva e dove invece andrai a venderle come per esempio nelle presentazioni letterarie meno hai pagato quella singola coppia maggiore sarà il ricavo che tu potrai ottenere dalla vendita di quel libro bene io per oggi mi fermo qui spero che questo discorso sul print on sale e il print on demand sia stato abbastanza chiaro e che comunque ti sia stato utile e che tu voglia prendere veramente in considerazione entrambi questi canali per rendere disponibile il tuo libro in formato cartaceo per i lettori o per tutte le tue necessità ti aspetto al prossimo episodio e ti auguro buona giornata un saluto da Carmen La Terza ciao self-publishing master perché il self-publishing è una cosa seria che c'è che c'è che c'è